Siamo con Paradiso, capitano del De Begnac, prima vittoria allo Junior Club. Com'è andato questo match? La partita è andata bene, abbiamo vinto, però è lunga ancora, quindi non so se riusciremo a vincerla. La tua prestazione? La prestazione? Era un po' fiacco, però sono riuscito a fare un gol e due assist, quindi è andata bene. La maggior parte delle cose è andata bene.